Cari amici, Solemigliano Babilonia, c'è in atto una nuova scossa di terremoto a Roma e le persone collegate con questi satelliti rilevano le frequenze amplificate all'interno del cervello e nel corpo, incominciano ad avere attacchi vicino al cuore, blocchi respiratori, frequenze di vibrazioni sulle gambe, sulle braccia e nel cervello. Sembra come se questa sia un'arma ad energia diretta, se deve dare che spara a frequenze elettromagnetiche bassissime nel sottosuolo. Grazie 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 Grazie